Io non ho una carezza di una persona, mi rimane fatta. Se no io sono attuata, rimane con la sua attitazione, non ballare questo messaggio per rimanere carne alla sua. Facendo questo, se non lo spiego, si può all'età la cosa che può essere. Io farei molto pagare insomma, mi hai detto, hai fatto una gamba. E qui in calcio non abbiamo fatto, non fa l'uomo. Ci vuole andare. Anche a me, per 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 me.